Salve ragazze, eccoci con un mega video haul. Ho comprato in questo periodo tantissime cose e le ho accumulate e adesso ve le farò vedere. Allora, parto con quello che ho comprato nel negozio della Yankee Candle a Bologna. Allora, intanto ho preso questi profumatori per l'autolettura. Ce ne sono tre al Clean Cotton. Sono profumatissimi ragazze, mi piacciono moltissimo. Poi ho preso delle Tarte My Serenity, che penso sia nuova, Champaka Blossom, questa, e Pine O' Rising, che poi non è altro che il pane con le uette. Buonissimi, buonissimi. Poi ho trovato questo braccialetto che è bellissimo ed è profumatissimo. Della Mille Fiori Milano, Made in Italy, a parte i colori che sono davvero carinissimi, ma poi ha un profumo. Quando lo si mette su è buonissimo. E quindi questo è quello che ho comprato a Bologna. Ecco, sempre a Bologna sono andata nel negozio OVS, quello in Viogo Bassi. Spesso, quando sono a Bologna, passo perché ha tantissime cose. E ho comprato della Lovea, che finalmente l'ho trovato, questo bagnoschiuma alla vaniglia. Ha un profumo eccezionale. E intanto che c'ero, mi sono lasciata attrarre, poi adesso vi dico, da questo top coat della linea P2. Che dire ragazze? Guardate, a me non è piaciuto per niente. Ieri ho provato, ho dovuto togliere lo smalto, rimetterlo. Insomma, aveva attaccato tutto. Io adesso, se era attaccato tutto, adesso io non so se magari non l'ho lasciato asciugare. Beh, darò a questo prodotto un'altra chance, ma secondo me se gli smalti sono come questo, possiamo anche evitare di acquistarli perché è veramente nulla di buono. Poi ho fatto un ordine su un sito inglese, perché ero stata attratta dagli smalti. E inoltre da un prodottino della Oil, questo, Total Effect 7 in 1, questo qui, ne aveva parlato la Lusi in uno dei suoi video, ma un video di tanto, tanto tempo fa. Ed è un prodotto praticamente per il contorno occhi. È illuminante, si presenta così, molto sheer. E qui ragazze, ho scritto tutto in inglese. Io, insomma, quello che ho potuto capire è che praticamente riduce le occhiaie, quindi il nero dark degli occhiaie. Praticamente aiuta a distendere, diciamo, questa zona. Comunque io non lo uso sempre perché è pieno di silicone, però come prodotto non mi dispiace. E sempre su questo sito ho acquistato una serie di smalti e, oltretutto, dell'Oreal, che questo io in Italia non l'ho mai visto. Anche se effettivamente è scritto anche in italiano perché dice scopri il nuovo top coat effetto UV gel per una brillantezza istantanea. Quindi questo top coat. Ripeto, io in Italia non l'avevo mai visto. E comunque è un prodotto davvero eccezionale. Mi piace molto. Vedremo se seccherà come tutti i top coat perché... E poi ho preso tutta una serie di smalti. Eccoli qua. Allora, intanto ho preso della Revlon, questo, il 570, che poi è quello che indosso, che è un po' come il Rouge Noir di Chanel. Ecco, a me piace tantissimo. L'unica cosa, non so se a voi piace, è che ha il pennellino molto, ma molto piccolo. So che ci sono alcune persone alle quali non piace questo tipo di pennellino. Io lo uso in modo indifferente e, sì, insomma, non mi trovo male. E poi ho preso questi smalti della Hourling. Quindi ho preso questo blu, che è bellissimo. Ecco, è questo, se riuscirete a leggere, ma forse no. Questo rosa, che fa parte della French Manicure. Sweet Blush. Ecco. Questo rosa, questo l'ho indossato, è bellissimo, ragazze. Ed è Terra Mauve. Ecco. Secondo me sono buonissimi questi smalti. Io, a dire la verità, questo rosa non l'ho ancora utilizzato perché, avendo sempre dei colori scuri, ho sempre le unghie un po' macchiate. E poi quest'altro rosa, Sugar Plump, con delle perlescenze che penso di utilizzarlo poi in primavera e estate. Sono stata contentissima. Mi sono piaciuti davvero tantissimo. E tra l'altro su questo sito inglese, ragazze, c'è da guardarci perché spesso hanno delle mega promozioni. Poi mi sono lasciata tentare dalla Kiss. Allora, ho preso due cose perché, oltretutto, è anche molto molto cara. Allora, io ho preso questo contorno occhi, rosa, actica. Questo qui. Ecco. Praticamente, come quantitativo, sono 14 ml. Ed è un prodotto che costa sui 40 euro. Forse anche di più. Non ho lo scontrino, ma il costo è più o meno quello. Allora, che dire. Sicuramente è un prodotto ottimo. E ha la consistenza di un burro. A me piacciono i prodotti, diciamo, contorno occhi, belli idratanti. Devo dire la verità. Mi piacciono di più di quelli... Cioè, mi piace che rimanga bello idratato. Però, insomma, ragazze, per 14 ml la bellezza di 42 euro, penso, insomma, non è poco. Cosa volete che vi dica? Io poi l'ho comprato, però. E poi ho preso questa crema per il corpo. All'olio di jojoba dovrebbe essere con il miele anche, che ha una consistenza, io non so se riuscirete a vederlo, forse no. Comunque è proprio di burro, guardate anche il colore. Molto, molto dolce. Mi piace davvero tantissimo. Per fortuna, però, non ho preso la confezione quella grande, perché così ho avuto la possibilità di provarla. Ed effettivamente, come profumazione, mi dà più l'idea di un prodotto per l'estate. Perché non contiene il cocco, sapete che io non posso utilizzare il cocco, però, diciamo che, un po' ha quella profumazione, vedete ragazze, però, è di un idratante. È la fine del mondo, veramente. È eccezionale, eccezionale. Mi piace un patello, veramente buona. E poi mi ha dato dei campioni, perché chiaramente, ecco, la crema, sempre alla rosa attica, però viso. E due campioni, uno shampoo, ecco questo. E un olio idratante per capelli. Forse un balsamo, più che altro. Ecco. Per cui questo è quello che ho acquistato dalla Kiehl's. Adesso, ragazze, provo a cambiare posizione. Ecco, perché secondo me c'era troppa luce. Oggi, peraltro, è una giornata bellissima. C'è un sole stupendo. E, mentre parlavo, mi sono ricordata che dal sito inglese ho anche acquistato la crema per le mani della EOS. Avete idea, è della stessa linea di quei burri per le labbra fatti a forma di uovo? Beh, anche quella lì è eccezionale. Adesso ce l'ho nella borsa e quindi dovrei andare giù a prenderla, per cui, insomma, ve la farò vedere la prossima volta. Poi, altri prodotti. Sono passata da Kiko, che per i saldi, peraltro, aveva poco nulla. E alla MAC, che ho preso due prodottini che adesso vi farò vedere. E poi da H&M. E poi ho dei prodottini che ho preso da Tigota. Allora, intanto dalla MAC ho preso, scusate la confezione, ma sapete benissimo che si sporcano da morire, perché sono nere. Allora, ho preso il solito fondotinta, il Pro Longer, però l'NV40. Adesso, quando lo vedrete, direte, ma sei matta, è scurissimo. Ecco. Bene. Ho preso, perché ho preso un colore così scuro? Perché, l'avrete visto negli altri miei video, perché è il mio fondotinta preferito. Io ne ho uno, che poi, tra l'altro, è l'NC, non ricordo se è il 20 o il 25, che però è molto, molto chiaro. E quindi volevo utilizzarlo in combo. Effettivamente sto facendo così e mi trovo molto bene. Comunque, questo è proprio il mio fondotinta preferito, perché comunque copre molto. Adesso io non so con la primavera come farò. Andando incontro all'estate, perché sinceramente. E poi ho preso questa polvere iridescente, quindi una cipria, che mi ha consigliato la commessa. Ecco, solita confezione. Ecco, questo illuminante. Che è molto, molto illuminante, effettivamente. Allora, io mi sto trovando bene, però non so se ho fatto bene a comprare questo prodotto, perché in effetti è molto shimmer. Per cui lo utilizzo un po' qui sul naso, sulla parte qui del labbro superiore. Però, insomma, forse potevo anche evitare con il costo che ha. Poi sono passata da H&M. E, allora, intanto vi dico questo. A Parma ha aperto il negozio della MAC. E, infatti, questi prodotti li ho presi a Parma. Che dire, le ragazze simpatiche, però ho notato che non c'è la professionalità che c'è nel negozio a Bologna di Via Clavature. Inoltre, dallo scontrino, ho praticamente notato che è un negozio, diciamo, privato. Cioè, non è il negozio, lo store della MAC. Anche se poi, effettivamente, è uguale. E mi hanno anche detto che è un negozio, diciamo, temporaneo. Questo mi è stato detto da alcune amiche. Comunque, vabbè, io i prodotti che ho acquistato sono stata contenta. Però il fondotinta l'avevo sempre utilizzato. Adesso, per esempio, mi sta finendo il correttore. Quindi andrò a comprarlo. Vabbè, però, cioè, non sono come le ragazze di Bologna. A Bologna ce n'era una bravissima, adesso non mi ricordo il nome, che mi aveva truccato. Poi, vabbè, io effettivamente i prodotti li avevo comprati. Ed è quella che mi ha fatto conoscere il fondotinta. Che poi, vabbè, lei me l'aveva dato chiaro. Ma perché, effettivamente, io non sono in grado di truccarmi bene. Ed è giusto, cioè, non è che ci deve essere tanto stacco poi col collo. Cioè, effettivamente, quello è proprio il colore che va bene per la mia pelle. Sono io che mi vedo chiara, mi vedo bianca. E quindi ne ho preso un altro per stemperarlo. Anche perché, andando incontro, diciamo, alla primavera, volevo un qualcosa un po' più di scuro. Comunque, detto questo, del negozio marca di Parma. Invece, dove mi sono trovata benissimo, e sono rimasta anche un po' esterefatta, vi devo dire la verità. Perché, dai c'è nenne, non perché il personale non sia valido, però, insomma, uno si aspetta che poi di cosmetici non ne capisca niente. Invece mi sono imbattuta in una ragazza bravissima. E questo acquistino l'ho fatto un po' di tempo fa, eh. Quando, tra l'altro, i capelli, adesso poi andrò dalla parrucchiera, perché, insomma, un po' di ricrescita. Comunque, insomma, erano più sul ramato, che poi, vabbè, è il mio colore. Comunque, erano appena fatti così. E sono rimasta esterefatta, perché, davvero, questa ragazza è stata bravissima. Allora, intanto mi ha trovato una matita per le sopracciglia, che è proprio del mio colore. Ed è questa. Brown Specialist Espresso Brown, ecco. Ed è proprio il colore delle mie sopracciglia. Cioè, non è né rossa, né quel grigiolino. Insomma, guardate, ragazze. Per me, questa matita è la fine del mondo. Adesso poi mi dovrò segnare bene il numero, perché non vorrei mai che dopo, temperandola, non riuscissi più a trovarla. Comunque, Espresso Brown. Ma, una ragazza, guardate, è davvero eccezionale. Se era messa lì, io poi, dirò di più, che quel giorno lì non avevo neanche tempo di star lì. Forse avrei comprato, non so quanta roba, in quel negozio. E poi ho preso questo ombrettino. E devo dire che la nuova linea ha delle cose veramente carine. A parte il packaging, che insomma non è che mi piaccia molto, ma è con questo dorato. Però, ecco, il packaging è questo. E il colore è questo violaceo, che a me piace molto. Ed è Wild Sable, se si legge così. Adesso il numero è il 26B. Comunque, davvero, davvero bellissimo come colore. Poi mette molto in risalto i miei occhi verdi. Insomma, me l'aveva consigliato lei. Contentissima. Oserei dire quasi estere fatta. Allora, prima di passare alla picco, vi faccio vedere cosa ho preso da Tigotà. Allora, intanto ho preso questa mousse forma Ricci, dell'Oreal. Power Ricci, mousse forma Ricci. Per aggiungere definizione ed elasticità e Ricci stanchi. Allora, nel precedente video vi sarete forse rese conto di come sono i miei capelli. Nel senso che, adesso voi li vedete stirati, ma io ho i capelli mossi. E, insomma, volevo comprare una mousse, una schiuma per capelli. Perché era da tanto che non la compravo, non l'usavo. Più che altro i capelli li stiro sempre. E, però, la volevo. Perché ho detto, insomma, quando capita, infatti era capitato per un lasso di tempo, che li ho lasciati in nature. Non avevo tempo. Insomma, c'era molta umidità qui da noi, pioggia, eccetera. Vabbè, li lascio mossi. E non avevo una mousse adeguata, ne avevo una vecchia, ma... E allora, niente, cioè, ho guardato tra le varie nel reparto dei capelli e mi aveva incuriosito il fatto che c'era scritto non indurisce. Un po' scettica l'ho comprata, anche se effettivamente, ragazze, questa per farla venire giù, insomma, ce ne vuole un po', l'ho comprata. E devo dirvi che, effettivamente, non indurisce i capelli. Cioè, io per anni ho usato delle schiume che mi facevano degli spuncioni alla fine. Insomma, niente, più che definire il riccio, li facevano sparati. Invece questa è davvero eccezionale. Quindi ho trovato, finalmente, wow, la schiuma per i miei capelli. E quindi sono contentissima. Poi ho comprato questo deodorante dell'alicia, un 0% alcol, 0% parabeni. Lo sto utilizzando insieme ad un altro della Blizz, che ne avevo già comprato. E devo dirvi, però, che nonostante io non abbia una sudorazione... Cioè, allora, diciamo che, per quanto riguarda la sudorazione, la tiene a bada, nel senso che non vi fa sudare. Ci sono dei deodoranti che fanno sudare. Ad esempio, a me, il borotalco, quello roll-on, io non so perché, quando ce l'ho su, sudo. Se non ce l'ho, non sudo. Se ce l'ho su, sudo. E quindi, insomma, non mi piace utilizzarlo. Questo, invece, non fa sudare. Ma ha un odore che, devo dire la verità, subito mi piaceva. E adesso non mi piace molto. Però, insomma, cercherò di finire. E poi ho preso lo solito della Nivea, questo qui, il Double Effect, pelle liscia più a lungo, con estratti di avocado, roll-on, che a me piace in patello. Mi piace tantissimo. Mentre ero da Tigotà, come si fanno passare dove ci sono tutti i prodotti di make-up? E guardate bene cosa ho trovato. Questa è una nuova linea della McFactor, Marilyn Monroe e i vari rossi. E questo è il Marilyn Berry, il numero 3, che è quello che indosso. Ragazzi, è eccezionale. A me piace perché è shimmer, però nello stesso tempo rimane tantissimo sulle labbra. L'unica cosa è la profumazione, che subito, insomma, sa di limone. Mai trovato un rossetto che sappia di limone, sinceramente. Però sulle labbra è molto, molto confortevole. Andatela a vedere, ragazze, perché ce ne sono, allora, quanti, penso sei colorazioni. Ce n'è una molto scura, che è l'ultima. E poi c'è il rosso classico. Beh, comunque, questo qui, secondo me, è bellissimo. Secondo me, ha un sottotono blu, almeno, così mi pare. Correggetemi se sbaglio. Vabbè, comunque, insomma. Ed è uno dei pochi rossi che riesco a utilizzare, perché solitamente a me le labbra proprio rosse non è che mi piacciono molto. C'è gno, che avevo preso l'anno scorso e che adesso tirerò fuori, poi, con la primavera. Bene, veniamo a Kiko. Allora, intanto ho ricomprato, ma questa me l'avete già vista, che tra l'altro è in offerta, la Smart Lip Pencil, vale a dire la 700. Che è quel nude e matita che ho abbinato, vabbè, questa è già la seconda che ricompro, l'ho sempre abbinata con dei nude. Però, in particolar modo, questa volta ho preso uno dei nuovi rossetti, il 924, questi non erano in offerta, degli Smart Lipstick. Quelli neri, normalissimi, che peraltro a me piacciono tantissimo. E ho acquistato questo colore neutro. Ecco, è già un po' sudato. Adesso, intanto ve lo faccio vedere così. Ecco. Che è un beige più sul marroncino. Ecco, diciamo che di nude, nei nuovi colori che hanno fatto, quindi che si sono aggiunti alla linea permanente, ce ne sono due. Io, allora, c'è il Mandorla, che penso sia questo, e poi ce n'è un altro, sempre nude, però molto più marroncino. Io, per adesso, ho preso questo, che appunto, vi ripeto, è il 924, però conto di prendere anche l'altro, perché effettivamente mi piace molto. Quindi questo. E poi ho preso due prodotti in offerta, questo rossetto di questa linea con effetto un po' cromato, il 704, che tra l'altro li avevo visti ma sul sito non c'era più niente, invece in negozio a Parma c'era. Che è questa linea, questa qui, non so se, eh, questa che si apre così, e ho preso questo colore, che sulle labbra è bellissimo, è un rosa, vedete che ha delle perlecenze, oserei dire quasi un nude. Ragazze, è bellissimo, pagato, questo me lo ricordo, 2 euro. Infatti, volevo ritornare da Kiko per vedere gli altri colori, perché effettivamente è un bel rossetto, confortevole, quindi, allora è questo, confortevole, sheer sulle labbra, che mi piace tantissimo. Infatti, in quest'ultimo periodo, l'ho utilizzato tantissimo, in quest'ultimo periodo l'avrò comprato dieci giorni fa. E poi ho preso, che era in offerta, la Compact Power, la numero 101. Ecco, io mi scuso, perché chiaramente è tutta sporchetta, ecco, questa è la 101, ha il suo piumottino, ed è questa. Che dire, ragazze, questa era in offerta, io devo dire la verità, non è che mi piaccia tantissimo, però, vabbè, ormai l'ho comprata, e tra l'altro vi devo dire che sul sito avevo visto che erano in offerta anche le terre. Io sono andata in negozio, ma, devo dire la verità, le terre non le ho trovate, quindi erano già terminate, oggi è riguardato sul sito, erano terminate. E la commessa mi ha detto che praticamente non ci saranno più, nel senso che questa linea classica, diciamo così nera, verrà poi sostituita, anzi, secondo me è già stata sostituita, perché non l'hanno più riassortita, con la linea delle terre, delle cipre, quella nuova, quella che ha il packaging, penso, dorato, se non vado a rato. Bene, ragazze, questi erano tutti i miei ultimi acquisti, io vi saluto, vi auguro una buona domenica, se guarderete il video oggi, e che dire, alla prossima, ciao ciao!